Buongiorno, rieccoci ancora qua, non bisognerebbe mai cominciare una registrazione, un programma, una cosa con l'allora, però allora, siamo qui, siamo qui per parlare di comicità, siamo qui, sono qui, oggi siamo un personaggio straordinario, veramente, uno che ha fatto una scelta incredibile, adesso poi quando metto dentro capirete, ma intanto c'è il sottopancia che scorre, quindi sapete con chi sono in compagnia per la prossima mezz'ora. Dicevo, ripeto, queste sono interviste che io faccio, perché siccome chi dovrebbe fare il giornalista, alle volte invade il nostro campo, si esibisce a teatro, allora io ho deciso di invadere il loro, insomma la mia piccola risposta a chi sostanzialmente rompe il cazzo ai comici. Bene, oggi siamo qui veramente con un genio, secondo me, un genio, davvero, si può dire, è abusato come termine, vabbè, usiamolo ancora una volta così finiamo di abusarlo, lo sgargabonzi, con noi oggi, ora lo faccio entrare subito, eccoci qua. Uelà, ciao carissimo. Ciao, come va? Bene, bene, si campicchia. Si campicchia, evitiamo assolutamente, perché non voglio dare una collocazione temporale a questa cosa, siamo ancora in periodo di Covid, ma noi ce ne freghiamo, parliamo di tutt'altro, lo voglio dire, però una piccola domanda all'inizio, bisogna che te la faccia, come è andata, come sono passati questi due mesi? Ah, guarda, io questi due mesi qua quasi non me ne sono accorto di questa pandemia, perché io per lavoro sono bloccato in Kenya da due mesi, da più di due mesi, fortunatamente oltretutto, quindi so che in Italia è successo veramente un Armageddon, però qua stiamo bene, siamo in un albergo, pagati e tutto. Vabbè, allora fighissimo, stupendo, meglio tu dino. No, ma noi anche siamo stati a casa due mesi più o meno pagati, no, pagati no. Ecco, vedi. Mancava pagati, dai. Ci hanno dato dei piccoli contributi, ma non neanche a tutti, quindi sì. Bene, allora partiamo subito, perché come avrete notato c'è barba barba e non c'è la faccia di questo signore. Perché questa scelta? Te l'avranno chiesto in tanti, voglio essere fai tanti. Guarda, non è neanche stata una scelta troppo meditata, cioè mi è venuta abbastanza naturale, prima di tutto perché io non amo per niente, non ho mai amato per dire avere una macchina fotografica puntata contro un cellulare o cose del genere, proprio una cosa che la trovo invadente, violenta e soprattutto oggi ti devi giustificare se te non vuoi apparire, non vuoi far foto e non vuoi che qualcuno sia alle spalle ti immortali, per dire. Poi per carità, chiunque lo può fare, però chiedi educatamente di evitarlo, perché non è una cosa che non mi è mai piaciuta. Poi oltretutto io sono sempre stato attratto più da quello che non comprendo totalmente, che non conosco fin nei meandri, rispetto a quello che è lì, come dire, è palese, scosciato ed evidente. E quindi diciamo che questa scelta qui, per dire me, è stata consonante sia a questo, sia appunto a un certo desiderio di privacy, che ripeto oggi è diventato proprio quasi una colpa, un qualcosa che devi giustificare e tutto. Più che altro è, è diventato ormai, visto che la frittata è fatta, almeno io parlo per me, che la frittata ormai l'ho fatta, no? Perché ogni tanto invoco questa voglia di privacy, la voglia di, se potessi abbandonare tutti i social, apparire, sarebbe ormai però irraggiungibile, è diventata irraggiungibile. Per chi vorrebbe poter tornare indietro sarebbe fantastico. Certo. Senti, invece, io addirittura all'inizio, quando il tuo nome iniziava a comparire, diciamo, nelle ricerche su materiale comico, le battute e quant'altro, addirittura pensavo fosse, per me è un'operazione fatta sulla comicità tipo quella di Banksy nell'arte, no? Questo, forse il paragone è esagerato, no? Dai, ci sta. Lo accetto. Lo accetto. Lo metto in bacheca. C'è qualche critico che sostiene che in realtà non sia una persona sola, ma sia un collettivo. E io all'inizio pensavo che tu potessi essere un collettivo, invece no. Sì, sì, infatti vedo che a volte quando mi chiamano alle serate e locali, che mi scrivono sulla pagina dello Sgargabonzi, c'è danno del voi, se potete venire, capito? C'è questa idea qua, no, no, ma io sono Alessandro Gori della pagina dello Sgargabonzi, cioè io non sono lo Sgargabonzi, se no sembra, capito? Lo Sgargabonzi è il nome della pagina, se no sarei tipo l'Igabippo, capito? Infatti, Sgargabonzi ha un significato, perdonare la mia ignoranza, non sono andato a cercarmelo. Sgargabonzi è una carta del mercantinfiera di Iacovitti, quello disegnato di Iacovitti, che per me è un'opera d'arte, io consiglio a chiunque di acquistarlo, e questa carta rappresenta una sorta di macchina dadaista che produce un lavoro zero, e l'ho sempre vista per certi versi un po' simile a me, cioè io comunque fin da quando ero bambino, per me le mie priorità non sono cambiate, diciamo che il tempo perso, il cazzeggio per me sono qualcosa, per cui vale la pena vivere, insomma. Per dire, parlando, io ho uno straccio di laurea in psicologia, che però non faccio, ma almeno non faccio valenne la vita, perché non esercito, però diciamo che sono sempre riconosciuto in quello che Freud chiama il perverso polimorfo, cioè quello che è attratto da qualsiasi forma di piacere, basta che sia fine a se stesso e che non sia, diciamo, proiettato verso il riprodursi. Ecco, questa cosa qua. L'ho sempre vista in questa... e quindi... Andiamo in campi pericolosi, però, perché poi, insomma, il piacere tuo contro quello degli altri, la propria pericolosa contro quella degli altri, poi bisogna un po' capire dove si arriva, qual è il limite. Però, cavolo, siamo veramente molto interessanti qua su questa cosa. Ascolta, c'è una battuta tua, l'abbiamo citata prima nel Fuori Onda, io tra l'altro te l'ho citata malissimo, che però a me aveva fatto tanto, tanto ridere, quella su su De Andrè, la dici tu prima che io la ridica sbagliata. Ah, sì, sì, ogni tanto, vabbè, tipo quando faccio qualche serata, per esempio a Genova, io la prima serata l'ho fatta a Genova, tra l'altro a Checkmate, che mi chiama Buon Giovanni Chirico. Assolutamente Giorno. Sì, 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 sì. E niente, no, scrissi semplicemente... sono onorato di essere nella città del grande De Andrè, ma anche di suo padre Fabrizio. Ecco, questo era semplicemente uno status, però piacque per dire, ma non ci investivo niente. Ma in realtà, allora, in realtà devi sapere che qui a Genova, dove io sono, vivo, il pubblico è diviso in due, cioè l'adorazione totale di Fabrizio De Andrè incondizionata e quindi dove nessuno può alzare un ditino e dire, sì, però non è che proprio tutto, mai, è assolutamente vietato, beatificato, santificato e poi ci sono quelli che magari si sono anche un filino rotti le palle di tutti i tributi che sono nati dopo la sua morte, no? Quando da vivo, sostanzialmente, a Genova non è neanche che lo ammassero proprio così tutti tutti, ecco, perché poi c'è sempre questa contraddizione meravigliosa. E quindi quella battuta è... Ma vuoi sapere come mi schiero su De Andrè? No, no, ma io non c'ho assolutamente niente contro De Andrè, io lo conosco fino a un certo punto, oltretutto io ascolto poca musica italiana, quindi ho diverse lacune, però, allora, la buona novella per me è uno dei dischi più belli come ascoltato, quindi già mi basterebbe quello lì. Però, no, a me mi diverte un po' prendere in giro il pubblico di De Andrè, che è lo stesso pubblico, cioè ci sono degli artisti che hanno un pubblico veramente insopportabile, che fa tutto per darsi le pacche sulle spalle fra di loro, per riconoscersi in un certo gruppo e sentire le endorfine che si liberano, perché se ti piace De Andrè vuol dire che nella vita hai ragione. Se ti piace Battiato, stessa cosa. Se ti piace Lynch, stessa cosa. Se ti piace Vasco, poi... Beh, Vasco forse va oltre, è diventato proprio una... No, ma io ho messo questi tre, questi tre, proprio perché hanno il pubblico peggiore, secondo me, cioè io, ma il pubblico, ma il pubblico di Lynch, Lynch al contrario di De Andrè è uno, secondo me, con ben poco talento, uno con molto gusto, ma secondo me con poco talento, che però demanda, diciamo, il suo, la sua attività al pubblico. Il pubblico cerca dei sottosignificati, degli ipertesti nelle sue opere, nelle opere di questo alieno pettinato strano e lui si frega le mani e intanto si gode i bonifici, per dire, capito? Che arrivano così. No, ma è una cosa insopportabile, cioè nel senso che se ti vedi, per dire, quando c'è Lynch che è ospite a Cannes, per dire, se a Cannes c'è Christian De Sica, gli chiedono, ma insomma il prossimo suo film qual è? Se c'è, che posso dire, non lo so, Martin Scorsese, gli chiedono se nel prossimo film ci sarà De Niro, se è vero ci sarà De Niro. Se c'è Lynch, l'intervistatore medio, la prima domanda che gli fa è, con questo tono al talco mentolato, gli chiedono sempre come sta? Ecco questa cosa, come sta? Perché capito? C'è lui tormentato, e lui tira fuori sto sorriso e questo tono salmodiante, dice bene, bene, grazie. E dice con la meditazione trascendentale, ho risolto tanti dei miei problemi, cioè c'è una cosa di uno stucchevole che di più non si può. Che meraviglioso, no, questa veramente è meravigliosa, perché sono tutte riflessioni che effettivamente mi è capitato di fare, quando le volte ce la raccontiamo molto. Cioè, capito? Cioè, questo compiacersi di essere talmente intelligenti da aver capito, che poi in realtà... No, no, ma c'è, ma io vedo una scena del genere, poi mi ricordo che io una volta che ebbi una emorragia cerebrale e presi uno scottex per tamponarmi, venni cazziato perché ce n'era uno già aperto di scottex. Cioè, capito? Cioè, penso a sta roba qua e penso a Lynch come sta. Cioè, capito? Io penso che... Allora, io dico questo. Se Lynch, oppure se Vasco, visto che l'hai citato te, se Vasco scrivesse nella sua pagina, per dire, scrivesse... Io desidero questa motocicletta. E ci mette il modello di motocicletta. Di arriva. Non è che i fan... No, aspetta, non è che i fan gliela comprano. No, i fan fanno partire fra di loro un'asta per accedere alla possibilità di comprargli questa motocicletta. Addirittura. Esatto. Quello che offre di più, offre, metti 40.000 euro per poi pagarne altre 20 per regalargli sta motocicletta. E a sto punto, se però, 40.000 euro che ha pagato, chi se le tiene? Se le tengono tutti gli offerenti, tutti quelli del fan club di Vasco? No, no. Diamole anche queste a Vasco, perché sarà contento di vedere la motocicletta e le altre 40.000 euro. Quindi un po' di odio di classe, chiaramente, da parte mia. Mi porta, capito? I fan di Vasco sono sempre molto... Sono tra le categorie che mi hanno scritto di più. Ah, vedi, vedi. Io immagino, anche te, avrai scatenato alle volte le ire di persone organizzate fra di loro, che è terribile. Certo, certo. Quando si scrive uno che dice questa battuta non mi è piaciuta e uno, quando inizia a scriverti un'associazione, comunque, la prendi un po' più sul serio. Io, questa è una delle mie prerrogative. Immagino anche tu, visto quello che comunque dici e scrivi. Adesso i fan di Vasco, ovviamente, sarà un disastro. No, ma io spesso e volentieri, magari io metto in un mio status un personaggio pubblico e sembra che questo personaggio pubblico lo sto prendendo in giro o non mi piace. Per dire, ultimamente ho decontestualizzato delle immagini di Mike Holfield, per dire, e raccontandolo come un personaggio un po', che ti posso dire, non una cima, per dire, però era la voglia di decontestualizzare, perché io, Mike Holfield, sono assolutamente un fan, io ho tutti i dischi di Mike Holfield. Così, è un esercizio di stile, quindi un po'. Sì, esatto. Cioè, la voglia di essere laterali, capito? Questo, insomma. Bello, mi piace molto. Senti, mi hai rivelato, perché sei un appassionato, un appassionato, appassionato è riduttivo. Insomma, i giochi da tavolo, però quelli da autore. Spiegami un po' questa cosa, perché mi incurio. Io, insomma, avendo un passato da giocatore di tutt'altro genere, che forse ritorniamo a quello che dicevi prima, del potere, no? Così, senza freni. Diciamo che io un po' l'ho realizzata, questa cosa, ma ahimè, ne ho pagato un po', ma non ci voglio sempre tornare sopra. Raccontami un po' questa cosa dei giochi da autore da tavolo. Cioè, cosa intendiamo, in realtà, questa cosa qui? Ma, guarda, ti dico, noi in Italia si pensa che il gioco da tavolo è quello che si trova al supermercato, ai grandi magazzini o nelle giocattolerie. Cioè, Cluedo, Risico e Monopoli. In realtà esiste tutto un mondo di giochi da tavolo per giocatori, per gamer. Giochi da tavolo d'autore, ovvero che sopra il titolo c'è il nome dell'autore, quindi ogni giocatore è legato alle ludografie di Rainer Nizia, che è il mio autore preferito, o Wolfgang Kramer, o diversi italiani, come possono essere Paolo Mori, Simone Luciani, o Carlo Arossi, per dire. E niente, di questi giochi ne escono più di duemila ogni anno, quindi è una nicchia, sì, ma è una nicchia ricchissima. E tu, da un gioco all'altro, magari dello stesso autore, tu riconosci anche, non solo le meccaniche, ma anche una certa visione del mondo e dell'uomo. Quindi, per me è una grande forma d'arte, quella del gioco da tavolo. Proprio per me, ecco, nella sua... Cioè, io magari no, prima di diventare compulsivo anche in quello e poi... No, io ho un campo invece che ti straconsiglio. Sì? Io, tutto quello che gioco, devo dire che ho un po' di ansia sempre, ormai... Ma basta, non ci mette distanto, sai, le monete, nei giochi con le monete, le monete le trovi in carta tecnica già dentro la scatola. Non c'è bisogno di usare quelle vere. Speriamo. Non so, vabbè. Magari in un incontro, diciamo, non online, le parliamo meglio, mi spieghi meglio. Ma guarda, ma se te conosci Giovanni Chirico del Checkmate... Sì, assolutamente. E conosci anche Leonardo Carbonetto? Sì. Eh, loro sono appassionatissimi, eh. Ce ne hanno a qualche cent... Sì, sì. Ecco, loro avevamo fatto anche la Federazione Italiana Bestemmia Sportiva, non so se te ne hanno mai parlato. Sì, 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 sì. Quello è veramente... era un bellissimo... che sembra una roba folle, assolutamente scorretta, in realtà era una forma di esercizio linguistico non indifferente. Certo, certo. Secondo me è azzoppato dal suo stesso nome, perché in realtà andava da tutta un'altra parte, quindi molto meglio sarebbe portarlo a conoscenza del grande pubblico. sarebbe interessante. Poi, insomma, la Coppa Germano-Mosconi ogni anno è un appuntamento fisso. Mi spiace aver perso un po' quel giro lì, però per me è legato molto al periodo, insomma, no, e quindi... Lo sto recuperando, però, insomma, ha fatto il giro, ma con un po' di tempo mi ci ho messo dalla mia. Senti, ma invece, allora, io ho avuto modo di vederti a... di vederti, di vedere un tizio che probabilmente eri tu, o non si sa se era parte di questo collettivo, a battute. Sì, 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 sì. Sei proprio entrato mascherato. Quindi quello è il tuo modo comunque di esibirti dal vivo? No, no, io dal vivo... No, 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 dal vivo so con la mia faccia. Anzi, mi piace questa cosa un po' da carbonari, per cui live per dire siamo internos, per quindi mi rilasso, per dire questo. E sei tu, ok. Con il tuo nome... Sì, 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 sì. Però in realtà il gioco potrebbe essere doppio, no? Cioè, sei veramente tu, oppure sei un attore pagato dallo sgarcavonzi per andare in pubblico, perché c'era Cattelan che faceva questo, ad esempio, tornando all'arte... Alcuni dicono che sotto la maschera ci sia Charlize Theron, addirittura con un cambiavoce. Perché questo sarebbe molto bello, scoprire questa cosa. Allora, io queste interviste che sto facendo, in realtà, le faccio o a comici che conosco molto bene o a comici che mi sono ripromesso di conoscere molto bene una volta che si riprenderà l'attività. Quindi mi perdonerai se veramente conosco poco di te come persona, leggo ovviamente le cose che scrivi, mi piacciono molto, ma... Però ecco, ci tengo a dire, ci tengo a dire... Non l'ho mai visto, quindi sarà una lacuna che devo colmare molto presto. Sì, sì, però ci tengo a dire che se ti riferisci alle cose che scrivo, agli status della pagina dello Sgargabonzi, in realtà quelli lì nascono da un grosso equivoco, che molte persone pensano che, come dire, io so quello degli status. In realtà, io sulla pagina dello Sgargabonzi, artisticamente ci investo ben poco, insomma. A me mi piace... Cioè, io sono scrittore, quindi mi piace scrivere i libri, i pezzi e i pezzi lunghi. Quindi a volte mi dispiace quando sento... Eh, quello... Cioè, per me scrivere gli status è come scarabocchiare, diciamo, su un blocco note mentre so il telefono. Capitano un divertimento. Quello purtroppo è una cosa che subiamo tutti, perché poi diventiamo conosciuti proprio per queste magari one line, che sono gli status e non per tutto il lavoro che facciamo dietro. Questo, ahimè, è una delle cose che paghiamo di questo momento storico, ma andrà avanti, peggiorerà o secondo te si tornerà un po' indietro a un certo punto? Cioè, in riferimento a che cosa? Ci saranno degli altri social dove faremo ancora delle altre cose, dove non scriveremo neanche più e ci sarà un altro modo di esprimersi o a un certo momento tutto questo castello di carte crollerà, secondo te. Guarda, io penso che tutto quello che noi altri facciamo in questo momento rischia di confondersi con un rumore di fondo senza soluzione di continuità. per cui io vedo che, cioè a me, sinceramente, di far ridere mi ha un po' stancato. La risata arguta mi ha un po' nauseato e devo dire che l'arguzia è una delle cose che ha rotto più i coglioni proprio in assoluto. E soprattutto oggi... L'arguzia, l'arguzia, quelli che credono di essere arguti poi, perché anche lì... Cioè, mi sa veramente sempre di un po' di io ho capito e voi no. Sì, sì, ma certo, però al di là di questo c'è il fatto che tutto quello che si legge per dire, per esempio su Facebook, ogni status scritto da chiunque, è un tentativo di essere divertenti. Cioè, o sei divertente o fai ridere o non sei nessuno. E sta cosa per me è proprio stancato. Proprio a... Quindi è questo che dico, che quello... Infatti, secondo me, in questa pandemia, in questo periodo di pausa, noi comici dovremmo essere un po' il letargo. Cioè, non dobbiamo, secondo me, portare sullo streaming quello che facciamo sul palco. Perché se no, rischia... È un po' dura, però è un po' dura. Cioè, però, vedi capito, vengono le interviste in questa maniera qua, per dire. Però ecco, meno invece quelle in cui, vedi, quei tentativi di rifare i live, però qua. Come se... È un po' la monomania di molti comici, che è quella proprio della risata, per cui è come se, che posso dire, un cantante, una volta staccato, finito il suo live, continua a cantare, risponde alle domande cantando. Il localaro gli dà i soldi, vuole che gli faccia la ritenuta d'acconto, gliela fa cantando. Capito? Questa cosa fa... Esistono anche altri argomenti, insomma. Però per un comico, credo che sia, molto diverso rispetto ad altre categorie, anche dello spettacolo. Cioè, il pubblico ti chiede proprio questo. Io mi ricordo i primi giorni, i primissimi giorni di quarantena, in cui non si sapeva davvero come sfogare questa cosa che c'era precipitata addosso a tutti quanti. La gente a me chiedeva, proprio diceva, fammi ridere, perché ho bisogno di ridere, sono chiuso in casa, con mia moglie, non siamo mai neanche andati troppo d'accordo. Cioè, ho scoperto di avere dei figli che mi rompono il cazzo. Fammi ridere. Non ho bisogno di ridere, fateci ridere, meno male che ci siete voi che fate delle cose. Era una richiesta ossessiva. Quindi ti chiedono di fare il comico sempre, la mattina mentre fai colazione al bar, quando compri in un negozio. Ma guarda, sarà anche dirimi. La battuta che sento più spesso è rivolto magari a un altro cliente, no? O a un altro avventore del posto dove sono. Stai attento a quello che dici, perché sennò poi ti mette nei suoi pezzi. Ah vedi, vedi. Ma sarà il fatto che io... No, ma guarda, sarà anche il fatto che io non ho mai sognato di fare il comico. Cioè, io mi ci sono trovato abbastanza per caso, in realtà. Perché io, quando pubblicai il primo libro, facevo le classiche presentazioni nelle librerie e veniva della gente, magari anche da altre città, perché mi conoscevano, perché mi seguivano per il blog che ai tempi c'avevo, lo Sgargabonzi, che era un po' seguito. E quindi, niente, magari arrivavano lì e dicevano perché non ci fai qualcuno dei tuoi monologhi? Perché non ci fai napoletanità? E quindi, niente, io mi capitava appunto di leggere questi monologhi, eccetera, eccetera. Poi, dal Lago Film Fest di Revine Lago, che era un festival del cinema, mi chiamarono per fare cinque minuti fuori programma, leggendo le curiosità sul rapimento d'Aldomoro. E io andai là e feci sta cosa. E poi, appunto, mi chiamò Chirico del Checkmate, mi disse fai uno Sgargabonzi live? Dico, che devo fare? Vieni qua e, praticamente, niente, leggi i tuoi monologhi. E io andai là e lessi le mie cose. E, niente, da lì iniziarono una serie, un passaparola. Quindi io, comunque, sono stato abbastanza fortunato che via via, insomma, mi hanno chiamato nei locali. Poi mi sono un po' affinato, eccetera. Diciamo che anche perché il materiale c'è, perché se no non è che c'è un vegliettivo collettivo. Vuol dire che c'è un vegliettivo. Sì, sì, però è per dire che non è che ho mai desiderato fare il comico, non è che ci vado matto. Cioè, uno che nella vita, come dire, va matto per far ridere gli altri, sogna di far ridere gli altri, per me è una roba che deve essere curata in psichiatria. Eh, ma infatti io ci sono anche andato, perché io invece ne ho sempre voluto fare quello. Cioè, per me la più importante, ad esempio, a scuola, per me la più importante è far ridere i miei compagni e i professori, poi, era come avere un premio. Cioè, se è riso anche il professore di turno, per me era proprio il massimo della vita. Chiaro, chiaro. Ovviamente succedeva rarissimamente. Di solito ridevano i miei compagni e di solito io finivo dal preside, che ho avuto la sfiga di aver sempre avuto dei presidi con pochissimo senso dell'umorismo, o quantomeno molto compresi del loro ruolo. Io era proprio una cosa... Io ho sempre voluto fare il comico, invece, ed era la mia condanna. Cioè, perché in ogni cosa io volevo far ridere chi avevo intorno. E adesso, che invece ogni tanto, perché poi dopo tanti anni, uno vorrebbe anche andare a pescare per cazzi suoi, no? Trovi sempre quello che... Fortunatamente adesso la televisione è un po' lontana, ma nei periodi di televisione era proprio quello. Mi chiedevano di far ridere, sempre, comunque, ovunque. Quindi, senza orari, senza... Che era un po' la condanna di Walter Chiari, lui diceva che era la sua condanna questa. La gente... Voleva che lui facesse ridere sempre, anche quando magari c'è i cazzi tuoi che ci sta. Certo. Quindi, insomma, è un mestiere un po' così. Però, vedi, ci sono quelli che dicevi tu che dovevano essere curati da bambini. Io sono uno di quelli, probabilmente. Cioè, oggi probabilmente un bambino come ero io davvero lo farebbero seguire da uno, bravo. E' vero, per me era questo. Allora, senti, cosa bolle in pentola? Dai, questa è la domanda proprio. Fammi fare il giornalista vero, no? Certo, certo. Visto che loro rumore... A questo momento mi sto dedicando a due progetti. Uno è, come dire, totalmente scevro da tentazioni comiche, che è questa graphic novel che sto realizzando col pittore abruzzese Marco Pace, che si intitola L'età dei mortali, e è appunto questo fumetto, però ecco, di quasi muto e appunto molto diverso da quello che faccio di solito. Un fumetto muto? Sì, sì, senza parole. Che racconta 30 brevi storie di 30 personaggi che, come dire, sono vissuti in questi millenni, i nostri millenni in cui purtroppo si muore, in cui appunto siamo sottoposti a questo dolore insostenibile che dobbiamo dà per scontato, il fatto di morire, consumarci, vede morire i nostri genitori e prendersi tre giorni di riposo dal lavoro per il lutto e tornare a mandare avanti il mondo per le generazioni che ci sopravviveranno. E' un dolore terribile, specialmente pensando che la morte sarà curata come sarà curato il vaiolo. E noi si ha la sfortuna di essere vissuti in questi millenni. Quindi per me la riflessione sulla morte è sempre, c'è sempre nei miei libri, ma non sul significato sociologico della morte, ma sempre sul significato proprio atatico. E' molto bella questa riflessione che hai fatto sul fatto che ci vengono concessi pochi giorni per elaborare e poi dobbiamo tornare a produrre, dobbiamo tornare a essere membri attivi della società. Una frase che non sopporto. E questo fumetto nasce proprio da questo, parla di queste 30 esistenze, questi 30 uomini messi a nudo davanti alla natura umana, la natura del mortale. E niente, credo che uscirà il prossimo anno. Così come il prossimo anno dovrebbe uscire anche il seguito di Jocelyn Uccide Ancora, che è questo libro mio ultimo, pubblicato da Minimum Fax. E appunto questo sarà invece un altro libro comico. Sempre un'antologia di racconti. Molto bene, molto bene. Va bene, io direi che ci siamo. Io ho avuto... È un incontro bellissimo questo, posso dire perché... No, no, ti ringrazio anche per me. Mi aspettavo assolutamente questo. C'è qualcosa di... E ora qualcosa di completamente diverso. E quindi assolutamente hai soddisfatto la mia curiosità e le mie aspettative. E non è merce così a buon mercato. Quindi sono veramente molto molto felice di averti conosciuto in questa maniera. Quindi ti ringrazio per aver... Grazie a te carissimo. ...il mio piccolo invito. E spero davvero che ci potremo conoscere presto dal vivo e insomma fare una serata insieme, ma non da... Con molto piacere. A bere delle birre e a chiacchierare. Grazie mille. Ciao carissimo, alla prossima. Grazie. Per voi invece, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Seguite sempre il sito danieleraco.com, la pagina Facebook Daniele Raco, il profilo Instagram Daniele Raco Ria, il profilo Twitter e state con noi. Ci saranno altre interviste con altri comici. Meglio comici solo su danieleraco.com. Grazie a tutti.